Tiene. Una mamma di uno studente dell'Istituto Tecnico Chilesotti si è messa nei guai e difficilmente eviterà una denuncia. La protagonista è una signora di 46 anni residente in un comune dell'Altopiano di Asiago. All'inizio del mese scorso ha reso noto ad un insegnante di suo figlio di essere a conoscenza che un ragazzo abile in informatica fosse in grado di introdursi nel registro elettronico della scuola per leggere i dati sensibili degli studenti tra cui quelli del figlio. Un hackeraggio che durerebbe da un anno pericoloso perché è in grado di modificare i voti nei registri. La signora è stata convocata dai carabinieri e messa alle strette ha confessato di essersi inventata la storia. La mamma ora dovrà nominare un avvocato per difendersi dalla probabile denuncia di procurato allarme.